Giornate di riflessione per la Diocesi di Andria. Si sta tenendo in questi giorni il convegno ecclesiale diocesano. Ieri la prima serata durante la quale è intervenuto Monsignor Domenico Battaglia, Vescovo di Cerreto Sannita, Telese, Sant'Agata de Goti. La tre giorni, che si concluderà domani, si concentra sul tema dell'ultima lettera pastorale del Vescovo di Andria, Monsignor Luigi Mansi, dal titolo, si prese cura di lui. Con questo documento Mansi sollecita la chiesa locale ad essere locanda, cioè luogo sicuro dove ogni uomo, soprattutto chi è in difficoltà di qualunque tipo, possa trovare accoglienza premorosa e attenta. Durante la seconda giornata che si svolge oggi all'istituto scolastico Lotti in via Cinzio Violante 1 alle ore 19, la testimonianza di due comunità parrocchiali, quella dei Santi Medici di Bitonto e del Corpus Domini di Taranto. Intanto ascoltiamo le interviste realizzate ieri da Francesco Rossi. Il convegno ecclesiale diocesano non è soltanto il momento terminale in cui ci sono le relazioni degli illustri relatori, ma c'è un grande lavoro alle spalle. Sì, in realtà costituisce proprio il punto di partenza un po' dell'anno pastorale, nonché l'appuntamento anche più importante della chiesa locale. Il convegno alla durata di tre serate inizia questa sera, Sua Eccellenza Monsignor Domenico Battaglia, che durante il suo ministero pastorale è stato particolarmente attento nei confronti dei più poveri, nei confronti degli emarginati. Ci aiuterà a capire perché come mai una chiesa che vuole dirsi tale deve necessariamente avvicinarsi e prendersi cura delle persone più fragili. Domani sera ci metteremo invece in ascolto di due comunità parrocchiali, la comunità dei Santi Medici di Bitonto e Corpus Domini di Taranto, due comunità che hanno cercato di incarnare nella propria azione pastorale proprio lo stile del prendersi cura. E nella terza serata invece si lavorerà all'interno dei gruppi di lavoro. Sono stati invitati a partecipare i consigli pastorali zonali con l'aggiunta anche per ogni parrocchia di due rappresentanti del consiglio pastorale parrocchiale, possibilmente un giovane e un componente del gruppo famiglia. Abbiamo così costituito 18 gruppi di lavoro, comprendendo un po' tutte le comunità parrocchiali della diocesi. Saranno chiamati un po' a ricavare, recuperare, a compiere un vero e proprio esercizio di discernimento spirituale per offrire degli orientamenti che possano aiutare la nostra comunità diocesana a camminare e a crescere nello stile del prendersi cura. Questa sera e domani sera invece sono attese oltre 600 persone, sacerdoti, religiosi e fedeli laici che sollecitati appunto dal nostro Vescovo seguiranno di certo con grande attenzione queste prime due serate.